Bravo sei, in silenzio radio. Per tutte le ultime notizie sul mondo di Call of Duty in tempo reale. Apriamo subito con Code Mobile perché è stata svelata in anteprima dalla versione Garena una nuova skin del Capitano Price in arrivo nel titolo. Ringrazio il mio amico Liker Murda Blast. Vi faccio vedere invece in anteprima la primissima immagine del Gulag che arriverà questa settimana nel titolo mobile con la modalità scontro. Quindi non ci sarà il Gulag come ad esempio su Warzone nella Battle Royale ma ci sarà proprio il Gulag come mappa per giocarla nel multiplayer di Code Mobile nella modalità scontro. Vi darò aggiornati nei prossimi giorni. L'aggiornamento sembrerebbe previsto per venerdì durante appunto questa season 7 del titolo della Tencent. Ma buttiamoci a capofitto subito all'interno di Modern Warfare perché come sapete ieri sera è arrivato un aggiornamento. Adesso vi spiegherò tutto quanto. Innanzitutto vi faccio vedere i nuovi bundle che arriveranno in questa settimana. Oltre a quello di Gas si chiameranno The Monkeys e The Mega City Mineis. Questi sono due nuovi bundle. Poi vi faccio vedere quello di Gas che è arrivato ovviamente ieri sera. Ve l'avevo già anticipato più di un mese fa. Costo 2400 Call of Duty Point. All'interno del bundle sono anche presenti delle sfide che andranno a sbloccare. Ovviamente skin aggiuntive. Bundle che è arrivato puntuale alle ore 19. Mentre l'aggiornamento delle playlist è arrivato in leggero ritardo. Infatti l'aggiornamento è arrivato intorno alle ore 8. La communication manager dell'Infinity World, Aston Williams, ha confermato che all'interno dell'aggiornamento interno di ieri sera non ci sono né modifiche alle armi o fix al titolo. Tutto questo arriverà con il prossimo update di cui vi ho parlato nei giorni passati di cui forniranno a breve la data di rilascio. Comunque l'aggiornamento è previsto per luglio con l'update di metà season. Alle ore 20 è arrivato invece l'aggiornamento delle playlist. Vediamo che cosa è cambiato all'interno del multiplayer e all'interno di Warzone. All'interno del multiplayer troveremo il MOSFIT Realismo con gli stivali a terra, quindi Grand War senza carri armati, i progetti scontro, follia pura 10 contro 10, quindi mappe multiplayer che da 6 contro 6 diventano 10 contro 10, tutto niente con una nuova modalità e faccia a faccia. La cosa molto carina di Tutte e Niente come modalità è che partiremo con un coltellino e con una pistola. Sembra una sorta di età della pietra però senza balestra. Vince ovviamente il giocatore che raggiunge 20 kill perché è una variante del Tutti Contro Tutti. All'interno di Warzone invece è arrivato Malloppo Quartetti e la Bat Royale Quartetti che va a sostituire la modalità Realismo che non era piaciuta molto alla Commuty, mentre la modalità Juggernaut che era stata riportata nelle note ufficiali non è stata rilasciata. Nel menu sfide invece sono state aggiunte nuove missioni Intelligence intitolate A Caccia del Nemico. Oggi pubblicheremo sui miei social tutte le location dove sono stati situati i documenti sparsi nella mappa di Verdansk. Si parla addirittura di Zagaf tra le missioni che dovremo ottenere. Chiudiamo il video informativo con una curiosità. Robert Bowling in un suo tweet ha svelato una grossa curiosità che si nasconda all'interno del nuovo bundle di gas che come vi ho detto è arrivato ieri sera alle ore 19. Il nome in inglese della variante arma e del fucile d'assalto è il Fair Brass, il che risulta essere il cognome dell'attore che impersonò il gas originale all'interno di Call of Duty Modern Warfare, ossia Craig Fair Brass. Fatemi sapere che cosa ne pensate appunto dell'aggiornamento di ieri sera. Vi ricordo update interno senza dover scaricare nulla e se avete già iniziato a fare le nuove missioni dell'intelligence. Noi ci vediamo alle 13.30 come sempre in live sulla piattaforma Viola, Instagram per tutte le notizie in tempo reale sul mondo di Call of Duty e appuntamento con me ore 7 domani qui su YouTube con un nuovo TG Cut.